La regina non ha mai dato interviste, ha comunicato moltissimo attraverso i fotografi che ha scelto per i suoi ritratti, attraverso i colori, attraverso le immagini. È la donna più fotografata del mondo. Una fotografia non si fa, si crea. Non riesco mai a trovare le parole per descrivere che aspetto avesse davvero. Sua maestà non sorride a comando, ma solamente quando vuole farlo. Questa regina rappresenta la mia idea di regina. È famosissima, ma nessuno sa realmente chi sia. Lei incarna i valori della famiglia. Ammirazione, amore, rispetto, guida, leader. E Dio la benedica! Un ritratto di qualità ci trasmette qualcosa sulla persona, non sul fotografo. Dio salvi la regina. Ha abbracciato il vento del cambiamento. Ha ispirato ammirazione. Affetto. E per molti, un amore duraturo. Grazie di tutto, maestà. Grazie di tutto, maestà.